Musica Musica Buonasera a tutti, c'è stato un piccolo inconveniente tecnico, probabilmente causato dal maltempo, chi lo sa, del resto l'Italia è un po' frangellata, vabbè, ce ne frega niente, adesso ci siamo. Allora, un abbraccio caloroso a tutti e un po', dove eravamo rimasti? Scusa, come ti chiami, non mi ricordo? Leonardo. Leonardo, non lo dimenticherò mai più. Siamo, da dove cominciamo? Dove eravamo rimasti? Siamo rimasti sempre con la grande pittura, no? Allora, Orler, Art Network, i saluti, una marea, una marea di saluti, nel frattempo siamo stati impegnati a ricambiare i vostri saluti, con messaggi e telefonate, e grazie anche a tutti gli amici dei social, un saluto particolare va alla nostra grande collezionista, e ad Aymar e a Graziano, in primis, perché poi all'amico Franco di Milano, non so, voglio dire, i nomi da fare sarebbero tanti, no? Cioè, per cui, con il rischio di dimenticarne qualcuno e poi offendiamo quello che non abbiamo menzionato. Allora, grande arte questa sera, qui siamo in quattro questa sera, abbiamo Anna Orler al centralino, che rivedo con grande afflato, grande enfasi, e poi Leonardo alla telecamera e Marcello che ci segue su dalla regia. Allora, Marcello, ci ha dato l'ok, finalmente possiamo partire. Una trasmissione che, come avrete letto dal titolo, ha a che fare con i paesaggi e con la figurazione, con le figure. figure, ricordate, figure che possono rappresentare talvolta metafore sotto l'aspetto, diciamo, della matrice espressionista. Oppure, non abbiamo, non vedo figure che appartengono al realismo magico, ma abbiamo una bella opera del grande Alberto Sudi, che io ho sempre adorato, questo grande maestro, che un artefice e grande professore che ho conosciuto in vita, perché lui non c'è più, aveva dichiarato proprio su Alberto Sudi di essere uno fra i più grandi realisti esistenziali, quindi collocabili nella fascia della nascita del realismo esistenziale, per l'appunto in quella brera milanese, e tutti quelli che poi sono subentrati in questo importante gruppo. Qui abbiamo una incisione all'acquatinta, acquaforte, fatta tutta elaborata, con effetti chiaroscurali, di una veduta, un paesaggio, credo che sia la zona preferita da Giorgio Morandi, e quindi si tratta di un'opera di Giorgio Morandi, ed è il paesaggio di Grizzana, che lui ha tanto amato, un paese che prende anche il nome, Grizzana Morandi per l'appunto, ed è tutta elaborata inizialmente con la tecnica dell'incisione sull'astra di rame, con la tecnica del bulino, poi voglio dire, lui ha fatto tanti di questi lavori, ha portato a compimento tanta opera grafica importante di caratura internazionale, mondiale proprio, Stratasi di Morandi, attenzione, e l'artista è nato diciamo nel 1900, quindi è nato nove anni prima di Luce Fontana, lo chiedo scusa, sì, è nato nove anni prima di Luce Fontana, quindi Fontana nel 1899, 1890, voglio dire, non è poco. Ecco, lui dalla critica mondiale, ad esempio, sia italiana che estera, è stato definito, per quanto concerne la voce grafica, paritetico alla, non so, a uno dei più grandi artisti della storia, mi può venire in mente, se non il primo, il migliore, parliamo di Reimbrandt, ecco, la stessa tecnica di Reimbrandt, no? La facciamo vedere, poi facciamo una carellata, così entriamo nell'opera, così le mie parole non si perdono nel vuoto, perché è giusto anche accompagnarle all'opera stessa, quindi escludiamo la cornice, che è comunque una legna cornice, non abbiamo badato a spese per questa cornice, perché è tutto in radica, e giusto per mettere in risalto questa bellissima opera di Giorgio Morandi, quel Morandi che ha un escursus che è pazzesco, particolare, però adesso, siccome siamo partiti in ritardo, signori, non è che io non conosca le notizie, Sommorandi, però vorrei offrirvi, apri pure, Leonardo, parleremo degli esordi se vorrete, perché si parla anche di una grafica degli esordi dell'artista, il suo percorso storico, quello che lui ha indagato nel mondo dell'arte, sia pur con un occhio anche al primitivismo, primitivismo, sia pur anche al futurismo, se vogliamo, anche al cubismo sintetico, se vogliamo, perfino all'ambito della metafisica, questo è Morandi, perché quando Morandi si ricongiunge e stringe amicizia con Giorgio De Chirico e con Carrà, ad esempio, sono vicini, Bologna, Ferrara, signori, sono 45 chilometri, quindi voglio dire questa cultura che si ammalga, ma si rende omogenea, dove vediamo anche Morandi dipingere manichini, sia pur diversi e differenti da quelli di Giorgio De Chirico, arriva un momento in cui tu vedi le opere metafisiche di Morandi, di Carrà e di De Chirico e potrebbero essere firmate da uno solo di loro e non riconosci più, diciamo, chi è l'artista, se l'ha fatta De Chirico, se l'ha fatta Morandi o se l'ha fatta Carrà. Quindi però Morandi non crede a questi valori plastici, non dà la piena fiducia e inizierà un percorso che lo porterà poi ad avere una sua autonomia, una sua identità pittorica precisa, pertanto poi diventerà il Morandi più conosciuto, quello delle composizioni poliedriche, delle bottiglie, sia pur memore anche di certi aspetti che riguardano il cubismo, però un cubismo che viene ammorbidito da Giorgio Morandi, esattamente come la diatriba che ci fu, non so, fra Amedeo Modigliani e Pavolo Picasso, sappiamo tutti che il cubismo parte con Picasso, con Quangri, voglio dire altri, in quella bellissima Parigi dei primi del Novecento, in quella bellissima Montmartre, cioè tu percorri questa via in salita che ti porta fino al Sacro Cuore, in Montmartre, per cui voglio dire è tutta addobbata, è tutta con piccole gallerie, piccoli negozi di souvenir, è un luogo di incontro proprio per l'appunto di tutti questi pittori, che sarà un seguito poi anche per la scuola degli italiani di Parigi, i sette di Parigi, quindi facciamo la carriolata così vi racconto un po' questa storia che è affascinante, quindi anche Morandi ha vissuto queste emozioni e questa internazionalità fino al raggiungimento di una meta che lo consoliderà sotto il profilo mitteleuropeo che sarà la città di Berlino, dove lui fa una grande mostra e io ho memoria di un'asta di Sotemis del 2012, sì 2012 o giù di lì, 2012-2014 forse, dove vedi presentare, quindi parliamo della Sotemis in via Broggi, di Milano che ancora non c'è più, ha cambiato sede e quindi lì io vedi acquistare un'opera di Morandi, vedi tante alzate di mano, parliamo di un olio di Morandi di una dimensione più o meno di 30x40, che fu aggiudicato a 650 mila Euro più i diritti d'asta e lo comprò per l'appunto un tedesco, il dottore Eggmeister, che è tra l'altro uno dei più grandi, con i grossi, io lo conosco molto bene, mi ha dato il suo biglietto da visita, ogni tanto ci sentiamo e lui è il più grande collezionista di Morandi in Germania, cioè voi capite, Morandi in Germania, dopo io vi presenterò un Sironi che non è il Sironi monumentale, però quel Sironi che dipingeva alla maniera di come elaborava le sculture Arno Brecher, che era un artista che ha portato a presentare le sue opere scultore monumentali nelle Olimpiadi del 36 in Germania, per l'appunto, quindi con la presenza del Führer, con la presenza dell'architetto Speer, eccetera, eccetera. E Sironi ha guardato al primo Bauhaus, quindi quello di Walter Gropius, no? E quindi alla monumentalità della figura umana, cioè renderla pari a Dio, come ha fatto Michelangelo nei suoi grandi affreschi, no? Allora, andiamo avanti, perché insomma a parlare del Novecento adesso mi si apriranno un po' le lampadine nel mio cervello. Qui abbiamo un'opera importantissima, molto bella, di un grande amico di Giorgio Morandi, ed è un pittore nato a Medicina nel 13, parliamo di Aldo Borgonzoni, che titola quest'opera Sardegna dei miei sogni. Facciamola vedere, dopo parleremo di questa storia e vi dirò anche per quale motivo vi consiglierò di comprare quest'opera, se non altre che presenteremo nelle prossime trasmissioni. Abbiamo una certa giacenza di opere, un ottimo rapporto con il figlio e quindi con Gian Battista. E dopo vi dirò qualcosa che potrebbe farvi scattare quella molla di attenzione per riuscire a entrare in possesso, in tempi ancora accettabili, con quotazioni ancora accettabili, per un'opera di Aldo Borgonzoni. Perché poi ci sarà un salto che non sarà dato da noi, sarà dato da un fatto politico internazionale, legato al PNRR, non so se mi spiego, che andrà a finanziare proprio sia la Medicina, la città dove è nato Borgonzoni, sia anche lo stesso PSAC, il centro culturale più importante, dove vengono raccolte tutte le notizie culturali più importanti del nostro civile italiano. Poi qui c'è un'opera di un grande maestro, adesso le vediamo tutte, così poi voi al limite, se foste, qualora foste interessati a prendere in visione una di queste opere, intanto si può prenotarla senza impegno. L'impegno l'avete preso quando vi siete sposati, avete detto di sì, ve lo tenete. Voglio dire, sia che siate fedeli, sia che siate fedigrafi, non la importa più, l'importate è che non rimaniate da soli, guardate. Si perdona tutto, oggi siamo in un'epoca di cultura uoca dove tutto è normale, dove tutto si perdona, dove tutto ti fanno le corna, e vabbè, fagli le fare la seconda volta. E del resto, lo dicevo prima anche all'Anna, l'unicorno è solo nelle favole, sono due, o meglio neanche una, voglio dire. Allora, qui c'è un'opera, signori, attenzione, catalogo generale di Virgilio Guidi. Ora, dovete togliere dalla vostra mente tutto quello che conoscete su Virgilio Guidi nell'ambito veneziano, perché lui fa una prima sortita a Venezia nel 20, poi ci ritorna definitivamente ereditando la cattedra di Ettore Tito all'Accademia d'Arte di Venezia, e diventa il punto di riferimento per tutto il contesto culturale veneziano, ma quella Venezia meta di tutte le avanguardie, in una perfetta, non oserei dire osmosi, nel senso di deterioramento, ma di coagulazione fra la nascita dello spazialismo veneziano, legato, pittorico, legato alla fase dello spazialismo milanese concettuale, di Fontana. Va bene? Allora, dimentichiamo tutto questo e andiamo da Guidi, che è nato nel 1891, in quel di Roma, e quindi inizia a dipingere queste vedute romane. Vedete? Guardate che campitura. Parti dalla firma, se puoi, e poi piano piano ti allarghi in tutto il paesaggio. Già qui vedi la cifra stilistica di quello che diventeranno le marine di Guidi, viste dal suo balcone in Venezia, oppure quella caseggiata, lui era al terzo o quarto piano, se non ricordo bene, sotto c'era l'Aerys Bar. Voglio dire, meta di confluenza di tutto lo star system hollywoodiano, di tutte le celebrità del mondo in quella di Venezia, ma anche di quelle vedute marine, di cui stasera non ne presentiamo neanche una, che ci faranno vedere Venezia vaporizzata, magari interpretata dall'Isola del Torcello, tanto per intenderci. Allora, questo no, dimentichiamo quel Guidi più conosciuto, per andare nel Guidi più antologico, catalogo generale, signori, questo è il catalogo generale, è uno dei tre volumi di Electa, di Virgilio Guidi, l'opera è pubblicata al catalogo generale, eccola qui, con tutti i riferimenti, con tutte le provenienze, Forlì collezione privata, 50x63 cm di base, 1927, galleria annunciata, eccetera, eccetera, poi un critico locale, eccetera, eccetera, galleria sianesi, e via via, nel 1985, una delle opere più pubblicate e più conosciute. Ne abbiamo un'altra, adesso Stefano questa sera non c'è, è un'opera che abbiamo nel cavo, ve la faccio vedere, in ogni caso, che è questa, sul catalogo generale, del 1928, paesaggio di Terracina, con questo porticciolo, con questo abbozzo, guardate, che poi andrà a influenzare perfino quella lirismo, quella pittura a zampa di mosca di Filippo De Pisis, ecco, tanto per intenderci, va bene, anche se poi De Pisis ha degli altri esordi, ora non vorrei essere blasfemo per un artista che adoro. Ad ogni modo, signori, opera pubblicata su catalogo generale, opera fra le primarie di Virgilio Guidi, quel Guidi che in quel di Roma si accompagna alla nascita di certi movimenti artistici importanti, quel Guidi che conoscerà tutti i membri della scuola romana, quel Guidi che conoscerà il realismo magico, quel Guidi che, insomma, c'è tanto da dire, non c'è il tempo, andiamo avanti, facciamo vedere. Qui c'è un altro Guidi che fa parte del ciclo delle angosce, no? Cioè, Fontana e i suoi tagli li chiama Battese e lui le chiama angosce. Cioè l'angoscia è quella particolare condizione umana in cui tu cerchi di autoreferenziarti attraverso l'interrogare la tua coscienza, no? E quindi cercare di dare un senso alla forma, alla spazialità della scena. Questo piano ed etico che non esiste perché non ci sono scansioni di spazi e quant'altro, ma c'è una grande matrice espressionista, non c'è un disegno preparatorio e Guidi è proprio l'inventore di questa tecnica, no? Cioè proprio, perlomeno, è uno dei più all'avanguardia in Italia, inconsapevole della formula di espressionismo nata in Germania, no? Cioè per cui venivano abbandonate tutte le forme accademiche e di getto istantaneamente dal genio creativo nasceva un certo tipo di pittura, no? Esattamente come è successo ai Nordici, ai Cobra, a Karelapel, a Licinski, ecco, tutte cose che, tutte argomentazioni che poi andranno a mescolarsi, a fondersi fra loro e trovare punti di incontro e punti di dibattito nella cultura internazionale di cui Guidi è un grande maestro, ne fa parte. Qui c'è un'opera che inviterei tutti i grandi collezionisti a esaminare con grande attenzione perché trattasi di un pizzinato degli anni Sessanta, Armando Pizzinato. Armando Pizzinato è stato veramente uno stratega di un certo tipo di pittura, anche lui ha delle radici post-cubiste, ma poi lo ritroviamo in quel contesto che si chiama fronte nuovo delle arti, quindi fra il 1946 e il 1947, dove nasce un certo tipo di pittura, se vogliamo anche di protesta contro tutto ciò che sono le nefandezze che l'umanità è costretta a subire attraverso le guerre, le guerre che si fanno fra sconosciuti, mentre chi le pilota ovviamente si conosce benissimo, non va a farla la guerra, non ci mandano neanche i parenti. Vabbè, è la stessa protesta che poi farà Emilio Vedo. Adesso sul pizzinato avremo molto da dire. Poi qui c'è un'opera del grande Campigli, eccola qua, la vediamo. Allora, Massimo Campigli, che giustamente è stato collocato vicino a Mario Tozzi. Vediamo queste due opere, vediamole insieme. Tu dici vai avanti, fai la carellata, però ti trovi due opere importanti, sono tutte importanti finora quelle che sto presentando, però ti trovi in un rapporto quasi sinergico anche nello studio di questi color mattone, di queste terre, di questi colori ecrudi, di questi colori che hanno una certa magia perché vengono indagati nella più antica presenza umana, così come fa Campigli che va a visitare Villa Giulia in quel di Roma e si innamora di questi colori, nella pittura coppia, nella pittura etrusca, si innamora diciamo di quello che fu, di quello che è stato, di quello che è stato risalente a migliaia di anni. E voglio dire, perché sono vicine queste due opere? perché Campigli e Tozzi, Tozzi addirittura è uno dei primi ad arrivare a Parigi perché sposa Marie-Thérèse che è parigina e quindi in grado anche di ospitare gli amici artisti, no? E quindi chi sono questi amici artisti? Sono Campigli, Tozzi, Filippo de Pisis, i fratelli De Chirico, no? Quindi Savinio e Giorgio De Chirico, René Paresce, questi sono Severini che già era a distanza a Parigi e già insegnava, no? Quindi punti di riferimento, guarda facciamo vedere tutte e due le opere, ecco qui voglio dire questo afflato fra questi sette pittori che vengono chiamati come i magnifici sette nel Far West, no? Ecco la stessa cosa, i sette pittori che innamorati di Parigi, anche considerato il fatto che Parigi in quei tempi era una tappa d'obbligo mondiale della cultura dell'arte, no? Cioè pertanto sappiamo che a Parigi sono nati i movimenti più straordinari della pittura dell'umanità, dall'impressionismo, il grande Cézanne addirittura che è stato poi punto di riferimento per molti vedutisti, per molti naturalisti, cioè questo è. Campigli si rifà un pochino diciamo a una pittura più antica, sia pur non trascurando la pacatezza dei colori dell'arte primitiva, detto fra virgolette, ma si innamora ancora di più di questa tipologia di figure femminili. La donna, come direbbe tozzi in questo ritratto muliebre, o muliebre, o muliebre, no? Cioè l'attenzione rigorosa e l'attenzione dedicata solo a quello che è la donna, la donna per se stessa, la donna come madre natura, la donna per la sua sensualità, la donna che genera l'uomo, no? Cioè per cui voglio dire la cosa più sacra che il buon Dio ci ha donato. Signori, se non ci fossero le donne, io mi sarei sparato 50 anni fa, già per dire, no? Allora, non avrei avuto nessun senso di continuare a vivere, cioè in che modo? Da androide? Non lo so io. Allora, la donna che per Campigli diventa una donna quasi di tipo orientaleggiante, in quanto poi viene chiamato, lui che aveva fatto il giornalista per nove anni a Parigi, era un, diciamo, incaricato al Corriere della Sera, per nove anni è stato a Parigi a proporre notizie, indagare notizie eccetera, come giornalista e poi inizia i suoi primi approcci con la pittura e poi espone in grandissime gallerie ed è presente in musei internazionali, è inutile stare da elencare, ma perfino al MoMA, no? Allora, poi gli viene commissionata l'illustrazione del milione di Marco Polo e lì lui, in questo viaggio di Marco Polo, che percorre mentalmente insieme a Marco Polo, arriva anche a questa cultura orientale di passaggio dove i califi, i feicchi, i marajà, i pascià, tutto quello che ti pare che hanno 50, 100 mogli e quindi certe volte le dipinge in una torre, certe volte le dipinge in un teatro, no? Ma di conseguenza queste donne che vanno poi collocate in questi spazi angusti, no? In questi anfratti di strutture antiche, le donne le devi sagomare anche geometricamente, quindi diventano delle clessidre oppure gli dà una forma che vagamente può ricordare il numero dell'infinito, no? Il numero dà uno stile a questa donna, io mi meraviglio che gli importanti produttori di profumi non abbiano inventato una bottiglietta di profumo pregiato, che può essere di Dior piuttosto che di Guerlain, con le sembianze di una donna di Campigli, no? Così da assaporarsi goccia per goccia, goccia dopo goccia, no Leonardo? Un profumino, Campigli, 500 euro per l'amore di Dio. Andiamo avanti, con Tozzi, questa è un'opera del 1969, vediamo di chi ha noi il Campigli, così non diciamo fischi per fiaschi, adesso poi andremo più nell'approfondimento, due donne, olio su carta in telata, monotipo del 1946, figurati, 50 per 34, il prezzo al centralino, catalogo generale, numero 46019. Poi, il Tozzi, figura muliebre più la bagnante qui, vedete, il Tozzi è olio su tela del 68, 35,5 di altezza per 27,5, pubblicata a catalogo generale. Si è creato un clima da sesso e samba, io canterai una lacrima sul viso, Anna, che dici? Ti arriva qualche notizia? Eh beh, insomma, è già qualcosa. Bene, andiamo oltre, visto che... un saluto all'artista Roberto Sgarbossa, grande artista del cinetismo internazionale, un saluto a Milena... Il Bueno? Il Bueno non l'abbiamo ancora fatto vedere, ma perché voi avete mandato un pdf? Profilo femminile di Bueno, olio su masonite, del 1965, 40 per 30. Vai pure sull'opera accanto e vediamo... Signori, perdonatemi, io adesso devo attingere un po' la memoria perché le biografie di questi artisti non le ho e quindi me le devo ricordare, ne ho vendute tante di queste opere nella mia vita, quindi attingerò volentieri, volentierissimo ai miei ricordi, ci mancherebbe altro. Però vediamo quest'artista che è uno dei figli della diaspora spagnola, unitamente al suo fratello Xavier, uno nato a Berlino, in questo caso Antonio Bueno, ovviamente, e l'altro a Viera de Vidassoa, e quindi nati separatamente, nati con un destino diverso, ma ritrovatesi poi puntualmente con il grande incontro con l'arte, questo è molto importante a dire la verità, cioè quindi queste sono quelle opere di Antonio Bueno che se vogliamo ricordano un pochino, adesso non mi viene in mente il termine preciso, ma non è neanche una malattia, cioè se adesso il termine scientifico non ve lo sto a dire, però lui dipinge queste teste così arrotondate, probabilmente anche di personaggi che pur essendo adulti sono rimasti con la fisionomia e con la testa un po' più grande e con il corpo un po' più ridotto e con le gambe ancora più corte, che lui non dipinge, per cui adesso non ricordo bene esattamente come si dica questo termine, mi verrà in mente, e quindi le rende… Sappiamo tutti che Antonio Bueno e suo fratello Savier sono stati due elementi cardini del realismo magico, anche molto importante, queste velature, questi profili, talvolta i marinaretti, talvolta… poi ci sono delle opere di Bueno, signori di anni precedenti che sono sconvolgenti, no? Ecco però, ora bisogna anche accontentarsi di tutto quello che è rimasto del Novecento, perché la gran parte delle opere di questi autori sono già a pannaggio di collezioni private, a pannaggio di banche, di fondazioni, quindi non è che sia così semplice, no? Trovare in circolazione opere di Bueno, di Tozzi, di Campigli, è come non è così semplice trovare quella incisione all'acqua tinta acqua forte di Giorgio Morandi, dove andiamo a trovare Morandi, non so io. Vediamo anche il Mignieco. Adesso mi si aprirà la mente, man mano mi verranno in mente delle cose più, diciamo, più sottili, più penetranti. Mi scatenerò nella seconda ora, che ti devo dire, Leonardo? Intanto facciamo vedere tutte le opere, perché è importante. Giuseppe Mignieco. Mondine, evidente, Olio su tela, 1952, 46 per 55. Questo è un quadro, questa è una tela, signori, di questa data. Probabilmente con l'archivio, anzi sicuramente con l'archivio della Bonaparte di Milano, Galleria Bonaparte che era dell'amico Nicola Luciani, che a sua volta era amico di Nicola Campigli, il figlio di Brera, la galleria era in via Pontaccio, mi ricordo, dove veniva archiviato per l'appunto Giuseppe Mignieco. Mignieco l'ho conosciuto, abbiamo anche cenato assieme, siamo stati in uno stretto convivio con lui, con Remo Brindisi, con Alice Sassu, una bellissima serata che si tenne non in Brera, ma sulla via Emilia in un'osteria, si chiamava La Rampina, e poi il giorno dopo, su tutti i giornali quotidiani, all'epoca Milano c'era la notte, il Corriere la Sera, il giorno, e venne fuori l'arte dei fornelli. Mignieco doveva essere un dentista, è venuto via dalla città di Messina dove è nato, praticamente lo danno nato nel 1908, ma non è vero perché non so per quale ragione si davano delle date sfalsate, lui in realtà è nato nel 1904, però le biografie dicono 1908, non capisco per quale ragione perché è successo anche ad altri pittori, però lui porta con sé non solo i ricordi della sua Sicilia con le raccoglitrici di aglumi, di limoni o di fichi d'India, però rimane affascinato da questa dignità della donna, vedete, che è solcata da rughe, è una donna che lavora, una donna faticata, è un realismo sociale come poi vedremo in alcune opere anche di Aldo Borgonzoni come vedremo nelle opere di Renato Cottuso, poche opere ho visto, anzi nessuna di realismo sociale interpretate ad esempio da Salvatore Chiume che è un altro siciliano e nasce a Comiso, allora Mignieco costretto ad emigrare e negli anni 40 era già Milano, va via perché ci sono i fasci siciliani, è stato un periodo tremendo per la Sicilia, no? Quindi va a Milano, in una Milano che negli anni 40 signori era veramente lugure, non so come abbiano fatto i milanesi a far scomparire la nebbia, ma io ricordo già negli anni 60 che ero un ragazzino, la nebbia non vedevi, non conoscevi neanche chi ti passava questa strada per dire, però forse si stava meglio, in ogni caso porta con sé e per tutta la vita questi ricordi, ero partito dicendo che una tela così negli anni 80-90 si pagava 80 milioni di lire, 80 milioni di lire, provino a chiedere il prezzo, se non la comprate voi la compro io, non sto scherzando, io non lo dico il prezzo perché non posso credergli, sì ha un prezzo che rispetto a zero voglio dire è un prezzo importante, ti compri due lingottini d'oro da 50 grammi l'uno con quello che chiediamo di questa e te lo compri nel momento più sbagliato, ti compri un investimento della paura perché più aumenta la paura nel mondo e più aumentano l'oro e più aumenta l'oro e più c'è la corsa all'oro anche da parte dei banco metalli vari eccetera eccetera che poi guadagnano una congrua commissione mentre te lo vendono, guadagnano una congrua commissione quando glielo vai a riproporre perché vuoi monetizzare cioè alla fine non so che investimento hai fatto, se arriva una guerra atomica e diventa radioattivo lo devi buttare via perché se lo muori, allora signori scusate, non sto dicendo castellanerie e poi te lo devi proteggere, te lo devi conservare, se lo porti in banca dipendi sempre dalla possibilità che un giorno succede come in Grecia, tu vai in banca non ti aprono neanche le porte e figure ti vai al cassetto di sicurezza, ma dove? guarda via, i banco sono chiusi, tutto può succedere per come sta girando il mondo ora, no? Questo non diventa radioattivo, questo diventa testimonianza della cultura dell'umanità, una delle tante testimonianze della cultura dell'umanità, allora al limite prendi la tela, te l'ha rotto di questo o del Campigli o di un altro vostro vignamino, adesso io non voglio insegnare tecniche di arricchimento, il mio arricchimento nasce sulla Bibbia signori, io seguo i salmi sulla Bibbia di Re Salomone e Re Salomone mi dice guarda quando tu sei riflessivo, quando sei saggio e quando dai valore alla giustizia devi soltanto destinare i soldi in determinate direzioni, anziché metterli sotto il materasso, nasconderli in un indumento vecchio, anziché nasconderli ai parenti, anziché cercare di soffocare il danaro, bisogna essere libero, il danaro è anche un po' come lo sterco, bisogna seminarlo nei campi, altrimenti non danno frutti i campi, allora è un po' come l'etame, quindi voglio dire se tu vuoi valorizzare veramente il tuo danaro, giusto è che destini su vari settori questo tuo danaro per creare un arricchimento, ma se lo metti al buio in un armadio, in cantina o sotto il letto, non dormi neanche bene, perché non ti fa neanche dormire bene, ti rovini l'armonia del sonno, ti spiego? Ci sono delle cose negative che nella filosofia buddista non devi mai fare col danaro, è pericolosissimo, invece ti metti davanti un quadro così e dici caspita lo vendevano 80 milioni, presumibilmente oggi dovrebbe avere un valore di 40 mila Euro, oggi questa sera me lo compro a 7500 Euro, cioè ditemi voi se stiamo turlupinando qualcuno, momento idoneo, momento propizio, momento ideale per avere Migneco, non so, di questa dimensione enorme del 52. Vediamo l'opera, non vado avanti se non mi arriva una telefonata per dire è una bella opera, voi direte sì, ma con questa cancel culture, con questa cultura, ma porca miseria se è bello Anna, te lo giuro lo compro io, perché io l'ho conosciuto e quando ho i miei beniamini, quei 4 o 5 pittori, o 6 o 7 o 10 che ho conosciuto, mi faccio una bella collezione di ricordi, perché non c'è ricchezza maggiore del ricordo per portarti di avanti, se no faccio la fine di Alain Delon, insomma il mal di vivere, ma dove? Se Alain Delon avesse avuto in casa quel quadro di Marco Novati, quel vecchio di Marco Novati non sarebbe morto, avrebbe capito che cos'è la vecchiaia e quale privilegio sia l'invecchiare felicemente, guarda che minieco, guarda che buono, guarda quel tozzi con gli occhi chiusi, stranamente perché è una pausa di riflessione, beh io sai mi bevo un goccio d'acqua, se non vendiamo questo minieco signori, ma non solo il minieco, è quel santo, scusami Anna, certo, certo, ci arriviamo subito, guarda vogliono rivedere il, posso dirlo io il prezzo Anna? Del pizzinato? ha fatto degli sconti, infatti sto guardando il minieco a due prezzi, lo vedevamo a 9 mila che era già poco, a 7 mila e 5, se ci fosse il mio amico Nicola che è curatore dell'archivio se lo comprerebbe in un nanosecondo, allora il pizzinato di cui ho parlato poco, signori 2.900 euro, non ti muovere di lì finché non arriva la prenotazione, la prenotazione di presa in visione, non voglio nulla di più, la prenotazione di presa, l'opzione per poterlo vedere a casa, pizzinato del 69, 2.900 euro la prima telefonata, guarda stasera spendo io 10.000 euro, prendo il minieco e il pizzinato, è che sono l'ultimo ai grettini, non ho capito, io mi rendo conto, non so, io onestamente non ho più guardato trasmissioni d'arte, anzi un mio amico oggi mi ha scritto, ma basta quadri, basta arte, ha ragione, cioè lui è un grande intenditore, esperto d'arte, apriamo uno spazio per cani e gatti e sarebbe mica male, io gli animali li adoro. Questa donna interpretata da Armando Pizzinato, un'opera della riflessione se vogliamo, io trovo che sia un'opera accattivante, un'opera che fa meditare rispetto a tanti lavori più comuni che Pizzinato porterà a compimento magari una volta che si è consolidato, diciamo, il dopo, il dopo fronte nuovo delle arti, no? Cosa fa? Dà l'avvio a un'altra situazione epocale in quel di Venezia, dico bene? No? Quindi la signora Peggy Guggenheim ha comprato un'opera di Pizzinato, l'ha portata dentro il Museo Guggenheim di Venezia, cioè quindi non è la più stupida del mondo, voglio dire, ha comprato anche altri artisti, però di Pizzinato ha preso un'opera molto importante, no? Quindi, artista nato nei primi 1900, 1910, mi pare 1911, qualcosa del genere, artista che ha militato sicuramente già come figura primaria nel 46 nel fronte nuovo delle arti, no? Insieme a Emilio Vedua, ma poi c'era anche Turchato, voglio dire, c'erano tantissimi, grandissimi nomi, grandissimi artisti in questo fronte nuovo delle arti, artisti che poi si sono dovuti confrontare nelle varie biennali anche con questo fronte nuovo delle arti, mi pare che poi sia durato soltanto pochi anni, no? Perché poi ad esempio all'epoca c'erano dei critici come Giuseppe Marchiori, c'erano dei critici molto importanti, c'era un luogo d'incontro, un punto di ritrovo che era, l'abbiamo detto tante volte, il caffè dell'Angelo, il caffè dell'Angelo, il ristorante dell'Angelo a Rialto, ma soprattutto c'era un incontro fra tutti i grandi pittori che poi hanno lasciato un segno, no? C'era anche Davide Orler per modo di dire, no? Perché noi presentiamo Davide Orler, allora non c'erano, ma sai, la famiglia lo pompa o lo vuole, no? Davide Orler era una cosa, la famiglia è un'altra cosa. Davide Orler era un pittore, la famiglia sono mercanti e hanno ereditato questo lavoro appunto dal padre che ha iniziato con il fratello in quelli di Venezia negli anni 50, dopo andremo a vedere quella bellissima nevicata, ma Davide Orler sì, lo puoi inserire in quel che è tutto il contesto storico di quella Venezia che va dagli anni 52 quando lui arriva a Venezia fino a quando è scomparso, se non ricordo male, il 2014, no? Però sempre come pittore, no? Quante famiglie abbiamo, quante vedove, quanti figli di pittori che sono passati a miglior vita, è quella stessa cosa, però Davide Orler è pittore, no? Dopo vi farò un discorso. Armando Pizzinato, che poi vedrà sciogliersi questo gruppo e vedrà addirittura la presenza di Leonello Venturi, che andrà a selezionare un gruppo omogeneo di pittori che al Guggenheim non ci sono finiti, lui sì, e quindi andrà a selezionare poi il gruppo degli otto pittori italiani da lì a poco, no? Quindi troveremo le autorevoli figure di uno dei primi astrattisti italiani, Antonio Corpora, troveremo i fratelli Basaldella, anzi chiedo scusa, troveremo solo Afro nel gruppo degli otto pittori italiani, troveremo Emilio Vedova, troveremo Giuseppe Santomaso, troveremo il Veronese Birolli. Vedete che è un po' Birolli anche questo, no? Perché è normale, cioè ci si influenzava vicenda, la radice comunque è sempre quella post-cubista, ma un po' scubista migliorato, più sintetico, non so come dire, cioè che dà risalto alla figura in quanto tale. Qual era la diatriba fra Amedeo Modigliani e Pablo Picasso? La figura tu non la puoi discernere, non la puoi opacizzare, la figura è la figura. La diatriba fra Modigliani e Picasso è stata per l'appunto questa, Modigliani un giorno ha incontrato Picasso e gli ha detto sì, va bene, ma tu puoi fare l'amore con un cubo? Capite? Cioè, infatti Modigliani vince il premio Parigi all'epoca di 5.000 franchi in quelli parigi, Picasso è il secondo, attenzione che non è tutt'ora, vabbè Picasso è un grande pittore, se andiamo a vedere il Picasso di quando aveva 15-16 anni, il signore ha fatto dei capolavori che voi manco ve li immaginate, cioè le figure che paiono uscire dalla tela, poi ha fatto un altro tipo di pittura. Però questa bellezza in queste opere, vediamo il pizzinato a 2009, non lo mollo signori, se non lo fate vostro lo faccio mio, qualche cosa devo inventarmi, è un po' che non compro opere, guardate, è vero è che anche nelle ultime trasmissioni ero tentato di comprare, ma siete stati voi più veloci di me, perché io devo sempre darvi quella possibilità, devo sempre darvi quella precedenza, perché Stefano non me lo permetterebbe mai questa sera di portarmi a casa questo quadro, anche se avessi soldi qui in contanti da lasciargli, perché il privilegio deve essere per chi ci segue, per i clienti affezionati, poi se proprio non si vende, se vuoi adesso c'è l'opera. Allora signori, io non ho parlato delle formule che vengono applicate anche dall'azienda, delle formule di vendita, ad esempio il mezzo più rapido è prenotare l'opera in visione, se proprio vi convince la potete anche acquistare questa sera stessa, dire il quadro è mio, ci fidiamo della vostra parola, non è un problema, altrimenti ne potete prenotare la visione, potete fissare un appuntamento e addirittura potete anche accedere a un pagamento personalizzato, che mi pare di capire che per qualche anno si ha avulso da interessi, una volta senza interessi per un anno, adesso mi pare che siamo arrivati a tre anni senza interessi, quindi voglio dire, non è poco, sono soldini, sono soldini. Lui era un grande amico di Turchato, si sono conosciuti esattamente negli anni 30 anche con il loro esimio professore che era il grande Alberto Viani, voglio dire, insomma ci sono state tante possibilità per Armando Pizzinato, ad esempio un grande gallerista come Carlo Cardazzo se n'era innamorato, cioè Cardazzo era all'epoca il proprietario di due importantissime gallerie, una Milano e una Venezia, è quello che ha lanciato se vogliamo lo spazialismo in generale, Pizzinato ha fatto delle mostre anche presso la Galleria del Milione a Milano, la Galleria storica del Milione che era notoriamente di Gino Ghiringhelli, poi mi pare che presentai proprio, non so se Andrea Orler o Stefano, non mi ricordo, gli ho presentato il figlio, l'erede, Luca e la signora, la mamma, Luca Ghiringhelli in questa galleria in via Maroncelli a Milano, ecco voglio dire, ho portato il contemporaneo del Milione di oggi con tutto il background culturale, le grandi mostre importanti dove si sono affacciati parecchi pittori importanti lanciati nella Galleria del Milione, poi arrivano le gallerie della Viglio, la Galleria di Cardazzo, poi il proseguito e il lavoro del fratello di Cardazzo quando è morto Carlo, è quella Venezia che non è mai stata abbandonata, quella Venezia che è diventata di colpo internazionale anche per via delle biennali, tu prendi un artista come Campigli e Tozzi, mi pare, non vorrei sbagliare, ma sono nati entrambi nel 1895, nel 1895 c'era la prima biennale veneziana, la prima, la numero uno, la prima, la prima di tutte quelle che si sono susseguite fino ad oggi, non so mi viene in mente chi poteva esporre nella prima biennale veneziana Giacomo Grosso, Boldini, quella gente lì, ragazzi siamo nell'Ottocento, di gente nata agli albori dell'Ottocento, Giacomo Grosso che era poi diventato rettore dell'Accademia Albertina di Torino, entrambi nati nel 1895, quattro anni prima di Lucio Fontana, eppure guardate in quella differenza dei quattro anni che cosa non accade, poi nascono i vari artisti come Vedova negli anni 1919, gli artisti figurativi come Fiume nel 15, Guttuso nell'11, voglio dire molti artisti nati proprio fra il 1900 e il 1910, come Mignieco nel 1908, questo Mignieco ragazzi, ma io ora non per campanilismo, non per campanilismo, ma se fossi un siciliano, un sicuro, doc, io riporterei Nemo Profeta in patria, non c'è un'età, un saluto caro a Nicola ad esempio, che ha un'età venerabile e che prima o poi devo andare a trovare, perché sento che devo andare a trovare, così mi godo anche una giornata, c'è una bella giornata di sole sul lago Maggiore, no? Ad esempio un siciliano doc dovrebbe riportare questo frammento di cultura nella terra natia di questo artista, no? Questo è un quadro stupendo signori, è un quadro, guarda lo stacco, vi faccio vedere anche, potete richiedere anche una perizia calligrafa, qui è tutto istoriato da Mignieco, dopo lo metteremo su. Questo dipinto è stato eseguito da me, Mignieco, 20 novembre 1966, dove ero io, entravo in collegio, proprio sul lago Maggiore, a Intra, dalle suore Maria, ausiliatrice, boh, mi ricordo più, comunque era una suore. Quanto bello è questo mio, si è visto via in retro perché Marcello mi ha dato la scheda tecnica? Va bene, una trasmissione così a sorpresa, con un depalo un po' consumato, un pochino ossidato, un fermo macchina, adesso piano piano diamo un po' di olio alla mente, un po' di olio, arrivo qua e mi trovo tutta questa bella mostra, ragazzi, si sa di chi può, magari alcune opere non le so presentare, che ne so, ma tutte opere che comunque nel corso degli anni, come no? Guarda, chiedono una carrellata a ritroso, allora facciamo così Leonardo, anche perché qui le biografie da ricordare sono tante, possiamo vedere l'opera di Renato Guttuso e possiamo vedere l'opera di Mario Sironi, che cosa dire? Che cosa dire? Questo è un periodo sicuramente felice di Renato Guttuso, esula dalla pittura, dal realismo sociale, dal neorealismo sociale, quello di Guttuso, esula dalle pressioni del partito, perché lui si è riscritto a partito comunista, anzi ha disegnato proprio la bandiera del partito comunista con la faccia e il martello e ha ideato un logo che ha fatto lui, voglio dire senatore a vita per due decenni, ha adottato questo figlio, Fabio Carapezza, che poi era il referente per l'autentica e che è morto anche lui recentemente, figlio di uno scienziato, Carapezza, che combinazione con un altro figlio di un altro scienziato vivente che è il professor Antonio Zichichi, che avevano aperto questo studio, questa galleria d'arte il segno di Roma, in cui si deteneva per l'archivio di Renato Guttuso e altri. Quindi immaginate un po' voi, un Guttuso con una personalità straordinaria, un Guttuso che ha dipinto di tutto, ha dipinto contro la guerra del Vietnam, i vietnamiti che fuggivano, i funerali di Togliatti, c'è tutta una storia che è macchinosa, più comunemente forse la bucceria più conosciuta, poi l'innamoramento con la Marta Marzotto e via via questo ciclo erotico che è pari o paritetico se preferite al ciclo erotico di Paolo Picasso di cui c'è un'ampia testimonianza sul catalogo del blog per Picasso e così anche lui, questa è una china meravigliosa, con guazzo, una cosa straordinaria, la bellezza femminile in tutta la sua volutà, in tutta la sua energia cosmica, ragazzi, che cosa vi posso dire, cosa c'è meglio, cosa c'è meglio della bellezza femminile? Eccola qua, un amore che è durato vent'anni, un amore che è durato vent'anni, con la consapevolezza anche, dico lei, che la moglie stessa di Renato Guttuso ha dovuto cedere a questo amore così focoso, no? Cioè, la Marta che fu intervistata le chiesero secondo lei come doveva essere un uomo e lei ha risposto molto elegantemente, l'uomo deve essere chic, scioc e scec, no? Cioè, per cui questo fu, era un po' volumile la signora, però voglio dire, mio nonno diceva sempre che è meglio piangere su una Roll Royce che una 500, poi se sbagliasse o meno, non lo so, la 500 l'ho avuto anch'io, cioè per cui non stiamo a parlare adesso di storie guttuse, eccetera, anche lui nel fronte nuovo delle arti, dapprima nel gruppo di corrente con artisti, perfino come Treccani, no? Sironi, cosa vuoi dire di questo Sironi? Che cosa c'è da dire di Sironi? Artista che nasce nel 1885, nasce tre anni prima di Giorgio De Chirico. Che cosa dire di queste montagne, no? Che paiono guardiani del cielo, guardate, questo è un grande occhio primitivo, un mento, un naso, una bocca serrata, no? Sono montagne, montagne che si erano, lui nasce a Sassari, no? Da genitori gomaschi, tra l'altro, il padre ingegnere. Sironi che, che cosa ci dice con le montagne, Sironi? Cioè, cosa c'è davanti a queste montagne? Cosa c'è dietro queste montagne? La caduta dell'umanità, la caduta, la semplice caduta dell'umanità. Tutti i valori non possono sopperire al peso antropologico di una piramide o delle montagne, che solo il buon Dio può spuotere, no? Perché dico queste cose? Perché Sironi è stato fascista? Sì. Addirittura dai fascisti stessi è stato reputato antifascista. Mussolini gli ha dato del coglione, primo. Seconda volta gli ha dato dell'imbecille. Vuoi che la buona Margherita Salfatti si accorge del genio di Sironi, che fa queste belle figure monumentali, ha fatto queste figure monumentali e anche dedicate alla Nemesi e alla Giustizia che stanno proprio in Tribunale di Milano, ma poi, voglio dire, in tanti altri musei capitolini, Sironi ha lasciato un'impronta di monumentalità dell'essere umano, una monumentalità che è stata scretolata dalla contrapposizione politica, fino a rischiare di essere fucilato poi dai partigiani, per non essersi manco comportato da fascista, perché era in antitasi e in ribellione contro Mussolini stesso. Così come è capitato a Meno Maccari, fondatore della rivista Il Selvaggio, che poi da fascista diventa comunista perché le dice no, ci sono dei valori che non possono essere tenuti in piedi con questa etiologia. Allora poi si comincia a schernire la figura di Mussolini, la figura di questi gerarchi. Ecco, però Sironi si trova a cavallo di due guerre, micidiali, perde il suo migliore amico che è Umberto Boccioni, lo perde, giovanissimo, cade da cavallo e muore, giovane. Si avvicina al contesto dei futuristi, viene avvicinato da Filippo Tommasi Marinetti, inizia una tipologia di pittura futurista per poi abbandonare, non lo convince più di tanto perché lui quello che vuole è la ricerca della potenzialità dell'essere umano, quindi lo rende Michelangelesco, lo rende potente, non a caso all'inizio della trasmissione ho detto guardate che Sironi ha dato un occhio di riguardo al primo Bauhaus di Walter Gropius e quindi quel Bauhaus dove hanno militato, non in senso militaresco, ma dove non so se sono incontrati grandi artisti come Paul Klee, grandi artisti come Oscar Schlemmer, Gunther Sturls, voglio dire Laszlo Mogolinaghi per la fotografia, un laboratorio di analisi vera della espressione dell'arte sia anche per l'architettura, perché l'arte è anche architettura, e c'era questo grande scultore tedesco che ha elaborato queste gigantesche figure possenti a dimostrazione proprio di quell'arianesimo voluto da Hitler stesso, Sironi cosa ha fatto? Ha fatto dei lavori murali giganteschi, ha fatto delle opere straordinarie, opere che sono state distrutte, così come sono state distrutte opere di tanti artisti, non solo di Sironi, ma di tanti, anche di Campigli, lavori murali distrutti per l'incompetenza, per l'ignoranza, per la presunzione, forse anche i lavori migliori, per poi incasellare l'umanità in una specie di bacheca dell'immaginifico e quindi i metrici particolari. Però le montagne di Sironi, a differenza di quelle periferie urbane che lui inizierà a dipingere dagli anni 25-30 in poi, quando si trasferirà a Milano, la prima, le osterie, i bevitori delle osterie, laddove anche lui andava nell'oblio, poi arriva a Milano, poi perde la figlia Rossana che si suicida. Insomma, Sironi è stato veramente, a Milano direbbero, sfigato, proprio sfortunato, non è stato compreso nemmeno in vita. Lui viene salvato da Gianni Rodari, capo di una truppa partigiana che lo aveva messo al muro, lo stavano per cucinare, fermi, 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 perché è un artista già citato come antifascista dagli stessi fascisti. Lui che era partito con enfasi con Marinetti e, voglio dire, con alcuni artisti dediti al futurismo della prima generazione, lui non appare nella fotografia dei futuristi sul manifesto delle Figaro di Parigi nel 1909, ma è dietro le quinte, c'è come c'era Balla che non appare, per dire, cioè tu ti trovi Carrà, Russolo, Boccioni, Severini e Marinetti, poi arriva Balla, poi arriviamo a De Pero, non so come un artista come Renato Guttuso, ad esempio, parte proprio iniziando la sua pittura nello studio di Pippo Rizzo, che era un futurista siciliano. Mi spiego? Allora, le montagne di Sironi diventano l'epilogo della vita di Sironi, anche se il riferimento è indirizzato verso le montagne della Sardegna, terra natia, che lui non smentirà mai, soprattutto nella zona di Tempio Pausania, ad esempio, che è circa 60 km da Sassari. Vediamole quelle montagne, perché adesso vado a leggere anche il prezzo, che non lo conosco. Vediamo un pochino, il prezzo non lo dico, ve lo dice Anna. Ah, stai rispondendo ai messaggi su WhatsApp. Allora, montagne e grande albero, tempera grassa su tela, ciumbia, del 1950-35x52, provenienza e pubblicazione Sironi, Galleria, Gessi, pagina 50-352. Mi pare che la Gessi sia a Torino, mi pare, adesso non mi ricordo bene. Caspita signori, che quadro, che emozione, che ricerca, che esplorazione dell'inconscio, non sembra neanche un quadro figurativo, guardate, potrebbe allinearsi quest'opera ai più grandi espressionisti astratti della terra. Guardate la grande composizione di pigmento pittorico, chiamiamola pure materia, tanto perché l'apporto materico di pigmento, non riesce a capire se è una prua di una nave, se è una montagna. È veramente emozionale quest'opera, fatta di che cosa? Fatta di nero pittorico, di bianco, di grigi, di colori salmastri, di una identità che l'uomo perde e la natura evince su tutto. Bene, a questo punto, signori, facciamo una cosa. Per coloro che ci sono collegati a Aurora, che non hanno visto, io farei una carrellata fino alla numero uno fino al Morandi, poi facciamo un phrase, un fermo immagine e partiamo dalla, facciamo il proseguo, però io vorrei presentare quell'opera di Sughi, apriamo con Sughi, blocchiamo lì, apriamo con Sughi, è una grande opera di Alberto Sughi e poi procediamo in ordine cronologico, come da scaletta di presentazione, se no poi faccio faticato alle opere. Marcello, non è che nella carrellata Marcello si può accompagnare con un lieve sottofondo music? Io vado a dare una mano a Anna, grazie. musica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.